basta, da stasera comando io, tutte le sere mi farai scena te, tutte le sere rigovernerai piatti te poi lo sai cosa faccio dopo scena? mi guardo la partita seduto sul divano in pace poi mi preparerai la doccia e lo sai chi è chi mi pettinerà capelli dopo aver fatto la doccia? l'ha detto delle pompe funebri amore ma cosa c'hai? niente insomma mi vuoi spiegare cos'hai? non ti ho detto nulla e a me mi girano le palle e lui non si accorge nulla che c'ha dei problemi te l'ho chiesto tre volte che cos'hai si si va bene vai ora mi è stufato, ora esco e vado col primo che incontro buonasera oh io ti lascio e perchè mi lasci? perchè non capisci nulla ma come non capisco nulla? ma fatti capire meglio ma non capisci proprio niente ma spiegami perchè sono stata con un altro ah e cosa avete fatto di cazzo? e ti ho chiesto che ho dì goal ma non capisco nulla? ma fortitudine